L'ipotesi di reato è attentato alla sicurezza dei trasporti, una ricostruzione accusatoria che fa spavento. Due società aerospaziali Brindisina avrebbero fornito pezzi non conformi alla Leonardo Aerostrutture, che a sua volta produce parti della fusoliera del Boeing 787 Dreamliner, aeree che ogni giorno trasportano migliaia di persone. La procura Brindisina ha indagato sette persone. Secondo il lavoro peritale di tecnici e consulenti specializzati, le aziende avrebbero prodotto componentistica strutturale non conforme, elementi in titanio pur invece che in lega di titanio, leghe di alluminio diverse da quelle previste. Componenti con una scarsa resistenza statica che sul lungo periodo potrebbero compromettere la sicurezza dei voli. Tutto questo solo per risparmiare sull'acquisto dei materiali. L'inchiesta è stata condotta con la collaborazione dell'FBI e ha portato la multinazionale Boeing ad una revisione straordinaria sugli aeromobili coinvolti. Quella di oggi è solo la seconda parte di un'indagine avviata nel 2021 per bancarotta fraudolenta. Dal lavoro dei magistrati emergerebbero anche reati ambientali, rifiuti pericolosi sversati nelle campagne Brindisina, cromo, ram, zinco, piombo, nell'elenco c'è un po' di tutto, sequestrate anche 35 cisterne con 35.000 litri di sostanze nocive e altamente inquinanti.